La Meloia in Albania a fare la sua solita campagna di propaganda ma sul nulla perché i due centri non solo non sono pronti ma ci troviamo di fronte a una spesa di oltre un miliardo di euro che verranno buttati in quei cimpr violando diritti umani, un miliardo di euro che poteva essere utilizzato per ridurre le liste di attesa nella sanità. Visto che è considerato che ieri hanno annunciato il decreto sulla sanità che non mette un centesimo di euro e quindi non riuscirà assolutamente nella maniera più categorica a ridurre le liste di attesa per la sanità dei cittadini italiani.